Baia di Tramontone, Taranto, una giornata dedicata al volontariato, alla bonifica e alla pulizia dell'area realizzata da Siamo Taranto, questa associazione che si spende molto frequentemente per queste iniziative, un'attività in collaborazione con Chima Ambiente Amiu e abbiamo un nuovo volontario, proprio vedendo, mentre era intento nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti gli ho chiesto, ma è la prima volta che sei qui? E Francesco mi ha detto sì, 23 anni, un amore per questa città. Come ti è venuta l'idea e cosa hai provato questa mattina? Allora, l'idea non è partita da me nel senso che io ho semplicemente approfittato di un'occasione che mi è stata proposta. Io ho conosciuto un'amica che partecipa a questa attività e mi aveva detto che questa domenica sarebbe stata dalle mie parti, vicino casa, e perché non poter collaborare? Io ho il pollice verde, oltre ad essere uno studente universitario, nel tempo libero mi piace curare oltre al mio giardino anche l'ambiente. Il giardino di tutti. Esattamente. Oggi mi sono occupato del giardinaggio anche, abbiamo piantato un po' di geranei, abbiamo potato un po' di palme, perché alla fine anche queste vanno curate. La manutenzione è importante e non bisogna abbandonare la natura a se stessa. È un'esperienza che sono convinto, ripeterai. Sicuramente sì, perché mi sono sentito veramente bene. Utile, utile. Utile, senz'altro. Complimenti, andiamo avanti così. C'è una Taranto migliore di tanti giovani. Certo, certo. Spero di poter anche includere magari amici. Magari così, quando sentiranno queste interviste, altri amici, persone che ti conosceranno, potranno incuriosirsi e dire, e perché lo fa lui, non lo posso fare anch'io? E si crea un contagio virtuoso, chiamiamolo così. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.